Allora, inizio io, poi vi lascio perché deve arrivare la mia collega Cauccino, che lei è la delega al sociale e alla disabilità, ma è un po' a ritardo. Allora, io ringrazio ovviamente Carola, Mimmo, Luca, Mumblano per questo evento. Che è il secondo in Piemonte, giusto? Perché l'altro era forse solo Novara. Novara. L'abbiamo fatto prima sotto Natale. Ieri ovviamente... Sono stato anche a Padova. Sei stato anche a Padova, che interessa tantissimo questa cosa, questa autismo. L'ho voluto dire. Va bene, è un po' lontana. Ieri era ovviamente la giornata sulla consapevolezza dell'autismo, quindi l'abbiamo collegata a questa giornata, credo che sia importante. E' un libro che è stato scritto l'anno scorso, diciamo. Introduzione di Elio, peraltro con la De Agostini, che anche lei è novarese, come piemontese, come autrice. E quindi, insomma, volevamo anche essere qua a Torino, nella capitale Sabauda, per raccontare un po', e spero che sia una bella cosa, quanto è scritto in questo libro, e soprattutto la storia di Mimmo. Chi non lo conosce... Io l'ho conosciuto perché vado a qui studio Vestadio a commentare l'Inter. Ieri, infatti, sabato eravamo insieme e lui commentava la Fiorentina, ahimè. E da lì poi abbiamo scoperto questa cosa e quindi mi sembrava opportuno aiutarlo a diffondere il più possibile questo libro, insomma, e spero che sia una bella serata. Anche ringrazio ovviamente per la presenza. Ci sono tantissime iniziative in corso in questo momento. L'orario non è dei migliori alle 17.30 a Torino, perché comunque anche raggiungere il posto è complicato qua in centro, però la vostra presenza, insomma, ci riempie di orgoglio. E poi, ovviamente, noi cerchiamo di divulgare anche oltre questo evento il libro, che si può comprare, ancora anche qui fuori, visto che ci sono a disposizione. Poi, se volete, Mimmo è bravissimo a fare le dediche, quindi vi consiglio, chiedi a lui qualche frase poetica da inserire. personalizzata, insomma. Insomma, questa è la mia piccola introduzione per questa presentazione. Grazie e spero che sia di grande auspicio. Grazie, Sessore. Io mi metto là, poi arriverà la caucina e racconterà meglio. Puoi rimanere qua qualche seconda, qualche minuto. No, no, Luca. Luca Fausto. Sto qua un attimo. Grazie, Sessore. Grazie a tutti voi per essere qui. Grazie a Mimmo. Grazie, caro. Devo dirvi che il libro è bellissimo. Io l'ho letto con molta attenzione e molto, lui prima mi canzonava un pochino, mi diceva, è semplice. Proprio questo è il vantaggio di questo volume, è semplice. E vi garantisco, io sono una giornalista nazionale e internazionale, per cui scrivere in modo semplice è molto più complicato che scrivere in modo complicato. Questo libro è scritto semplice ed si vede che Mimmo, oltre che sentire il problema, visto che lo vive quotidianamente, riesce a trasportare il problema sulle pagine di un volume. Non è una cosa facile, per cui vi consiglio veramente di, se non l'avete già fatto, di acquistarlo. C'è anche, usa spesso una frase Mimmo in questo volume, solo conoscendo il problema non lo si teme, solo conoscendo il disagio, solo conoscendo il diverso non lo si teme. Ed è vero, questo volumetto dovrebbe essere diffuso nelle scuole fino a terza media, per convincere i bambini che un bambino non uguale a loro non è una cosa da avere, da temere. Dovrebbe essere anche letto dai politici, secondo me. Dovrebbe essere diffuso, certo Marmette, sono sicura se so che tu l'abbia letto, però penso che dovrebbe essere anche diffuso nelle regioni, perché nelle regioni e non solo nelle regioni, perché a volte i politici, ma del resto anche noi giornalisti e io per prima, facciamo tutto, abbiamo fretta, dobbiamo agire velocemente, tu lo sai come me, perché lui, voi lo sapete, è un esperto di sport, l'unico tema che io proprio sono un disastro, so che il pallone è rotondo e basta, nient'altro, però lui è un grande nome nel mondo sportivo e io mi sono un po' studiata dei suoi interventi televisivi e anche lui ha fretta, abbiamo fretta. Invece questo libro richiede di essere letto lentamente, come diceva Cesare Augusto, muoversi lentamente, curiosa frase. Ora, fare le domande a Mimmo su questo volume. Il titolo, secondo me, è già una meraviglia. Mio figlio è uno sgusciato. Ma che cosa vuol dire mio figlio è uno sgusciato, esattamente? Qui parli del guscio. Tra l'altro il libro si basa su sette parole e mezza, sette parole e mezza, ma cominciamo dal titolo. Mio figlio è uno sgusciato. Ci vuoi spiegare cosa vuol dire mio figlio è uno sgusciato? Tanto, se permettete, poi dopo rispondo, ma devo fare una foto da mettere sui social. Quindi sorridete e fate finta di essere presi da quello che sto dicendo, perché poi la metto sui social. Ecco, bravi. Un finto applauso, così poi faccio il video. Adesso non vi chiedi di tirar su le mani, perché sembra una roba da stadio, quindi non meriterei. Ok, grazie perché mi serve per i social network. Rispondo alla tua domanda. Mio figlio è uno sgusciato. Beh, molto semplice, nel senso che, almeno per me, ovviamente. Mio figlio è uno sgusciato perché questi ragazzi, io tendo a dire ragazzi perché Tommaso, mio figlio ha 26 anni, però è evidente che quando dico ragazzi intendo anche bambini. vivono all'interno di questo guscio e dove tra l'altro ci stanno non bene, benissimo. Sono al loro agio perché il guscio, in qualche modo, ovatta tutto quello che c'è all'esterno. E questi ragazzi che hanno questa condizione, perché l'autismo non è una malattia, ma è una condizione, ci stanno non bene. da Dio e il nostro lavoro di genitori, di addetti ai lavori, intendo per addetti ai lavori, educatrici, educatori, psicologi, neuropsichiatri e quant'altro, è proprio di sgusciarli da questo ambient comfort zone, chiamatela come volete, dove loro stanno al loro agio. Per cui è molto semplice, nel senso che sgusciarlo è proprio nel senso tipico di quello che vuol dire, cioè tirarlo fuori da questo guscio. Le sette parole e mezzo, sempre per rispondere alla tua domanda, è molto semplice. Dovamo identificare una serie di parole che potessero in qualche maniera ricondurre all'autismo. Inizialmente la di Agostini mi aveva proposto dieci, io da parte enopeo, se non faccio la trattativa, non resisto, perché ho detto io dieci mi sembrano troppe, facciamone sei, allora sette, sette è un numero un po' strano, allora aggiungiamogli in mezzo, e per cui alla fine siamo arrivati a un dunque. Però vorrei farvi notare che questo libro, adesso che allora si scandalizzerà, ma... Difficile. Però questo libro, di fatto, ve lo dico, chi è che l'ha già comprato? Chi non l'ha ancora comprato e magari sta pensando di comprarlo? La signora, ecco, non lo compri, perché questa, lo dico apertamente, non lo compri, perché questo, come potete vedere, è un volume di, insomma, più o meno, vediamo quante pagine sono, 140 pagine, scritte tutte, con Arial 34, perché di fatto sono due foglie a quattro, che poi rimpiccioliti, sono diventati questa cosa qua, io ho preteso... Così non avete bisogno degli occhiali, lo potete leggere in qualsiasi situazione. E ho preteso, dalla D'Agostino, una copertina rigida, perché dall'impressione... Così lo potete buttare per terra e non si sgolcisce. Sì, diciamo che questa è una motivazione, ovviamente, che mi fa piacere, ma la verità vera è che dava l'impressione di essere un libro importante, quindi, tu metti la copertina già bella larga, uno che lo vede dice ammazza che librone, proprio... Ma di fatto, in un quarto d'ora, venti minuti, lo leggete. La particolarità è trovare poi le parole, perché non è semplice, quando hai il foglio davanti, dire va bene, parto. Parto da che cosa? E per cui devi scegliere i capitoli, i capitoli che possono essere, in qualche modo, rappresentativi di quella che è stata, perché di questo si parla nel libro, questo stupendo viaggio, perché è un viaggio meraviglioso, con un compagno meraviglioso, che si chiama Tommaso, perché Tommaso è mio figlio, ma di fatto è un compagno di viaggio, perché lui vive una condizione che ti mette in una relazione con lui che non è la relazione padre-figlio. Io ho una figlia più grande, Claudia, che è assolutamente normotipica, quindi è la sua vita, ormai è adulta, vive per i fatti suoi, eccetera, eccetera, ma io non ho lo stesso rapporto che ho con Tommaso. Tommaso, oltre ad essere un figlio, è una persona che, diciamo, vive con me 365 giorni all'anno, e la cosa è molto banale, perché mentre mia figlia, nel suo percorso, passatemi il termine, casalingo, cioè quando viveva in casa, usciva con le amiche, aveva i suoi momenti, insomma, classici di tutti i ragazzi, dell'adolescenza, adulta, e quant'altro, Tommi invece è sempre con noi, noi intendo dire con me, mia moglie, e quindi di fatto è una presenza costante e fissa per tutto l'anno, e per cui sono 26 anni che io me lo vivo tutti i giorni e 23 anni che me lo vivo da autistico. Sì, perché non è nato autistico, è diventato autistico. Sì. All'età di tre anni avete scoperto, cioè, quando l'avete scoperto? Sì, 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 ma è tipico. Come l'avete scoperto? È ben raccontato? Sì, sì, l'abbiamo scoperto casualmente, come succede a tutti i genitori che hanno a che fare con questa tematica, più o meno i bambini fino ai due anni, due anni e mezzo, in alcuni casi tre, sono assolutamente bambini normotipici. Cioè, io ho dei filmati di Tommi di due anni che chiamava me, chiamava la mamma, chiamava la sorella, cominciava a parlare, e quindi assolutamente il cosiddetto normale, tra virgolette. Poi, sul senso del normale si potrebbe discutere per ore, ma comunque normale. E poi, all'improvviso, un bel giorno, abbiamo cominciato a vedere che Tommi, questo bambino, si isolava, cominciava con dei gesti ad essere sempre ripetitivo in quello che faceva, e soprattutto non rispondeva quando lo chiamavi. Per cui, ovviamente, quando tu lo chiami e non ti risponde, il primo pensiero, questo bambino, è sordo, è evidente. e quindi l'abbiamo portato, l'abbiamo portato dal... Dall'Otorino. C'è scritto nel libro. Quello per le orecchie, l'Otorino. Lui. Stavo pensando al chirurgo, ma non era quello. È l'Otorino, è l'Otorino, confermo, il quale l'ha visitato e ha detto, no, questo bambino ci sente benissimo, secondo me, sto parlando di 23 anni fa, potrebbe rientrare nello spettro autistico. Mi garantisco che 23 anni fa non è l'autismo di oggi, era proprio un'altra era, per cui sentirsi dire, autistico, io e mia moglie ci siamo guardati e ha detto, boh, sarà una malattia dell'apparato udutivo, non lo so, sarà qualcosa, non lo so, cerume le orecchie, non lo so, per noi voleva dire qualsiasi cosa, non c'era ancora internet, perlomeno l'internet che conosciamo oggi. E quindi, da lì è iniziato il nostro cammino, perché abbiamo cominciato piano piano ad approfondire, a capire, siamo entrati nel vortice dell'autismo, che nel frattempo, come appunto dicevo un attimo fa, è completamente cambiato, rispetto a 23 anni fa. Bisogna dire, Charles de Gaulle aveva una figlia con questo problema, ma chiaramente non si sapeva, non lo sapeva nessuno, anche Charles de Gaulle e la moglie scoprirono che poi la ragazzina aveva questo problema e disse una frase, perché io ho fatto delle ricerche, ho scritto dei libri, eccetera, tra queste c'è anche qualcosa riguardante Charles de Gaulle, disse una frase, come hai detto tu adesso, voglio un gran bene a mia figlia, perché per quello che io posso fare, Charles de Gaulle, chiaramente era il capo del governo francese, non poteva stare a casa tutti i giorni, però tutte le volte che sono a casa il mio tempo libero lo dedico alla mia bambina che poi morì abbastanza giovane poco dopo i vent'anni, però all'epoca non si conosceva per nulla, stiamo parlando degli anni 60, figuriamoci, anche prima. Tu qui incominci con Guscio, superpoteri, supereroi, il capitolo dedicato, chiami tuo figlio, supereroi, perché? Ma di fatto... A me fai venire in mente superman. Beh, certo, evidente, perché comunque sono dei bambini che hanno comunque dei poteri particolari, da non confondere, perché quello che ci ha rovinato a noi, noi genitori, soprattutto della mia generazione che hanno a che fare con l'autismo, è un film in particolare che è Rayman. Tutti l'avete, o quasi tutti l'avete visto, ve lo ricordate, bellissimo film. esatto, ogni tanto lo ripropongono. Bellissimo. E quindi, quando i primi tempi parlavo, dicevo, ma io, Tommaso, è autistico, insomma, ho visto il film, ho visto il film, ecco appunto, non c'entra assolutamente nulla, perché se mio figlio avesse quel tipo di peculiarità, io, intanto non sarei qua oggi, ma sarei in uno yacht, perché io avrei girato tutti i casino del mondo, quindi sarei straricco, non è che l'avrei fatto girare in tutto il mondo, quindi è evidente che non è quello l'autismo. L'autismo si chiama spettro dell'autismo proprio perché è uno spettro che rappresenta tante sfaccettature, per capirci uso i colori, cioè è una tavolozza piena di colori e ogni ragazzo si posiziona su un colore. E ovviamente si parte dal caso grave, gravissimo, e si finisce da quelli, tra virgolette con un potenziale assolutamente molto molto alto che sono gli autistici, quelli che parlano, quelli che Einstein, Einstein era un autistico, faccio l'esempio proprio estremo. Ecco, in quella tavolozza di colori c'è un po' di tutto, per cui c'è il gravissimo, c'è quello meno grave, Tommy si posiziona più o meno in mezzo, ma dobbiamo ricominciare adesso l'assessore. Ricominciamo da capo? Buonasera, salutiamo l'assessore Chiara Caucino. Assessore, ricominciamo, adesso è il caso. Buonasera, buonasera. Ciao. Buonasera. Ma Luca Fausto, quando lo facciamo entrare, Luca, l'assessore? Quando? Ah, ok. Adesso lo facciamo che faccio sedere al mio posto? Io sulle sedie non so dirvi nulla, non so, aggiungete voi, siete due cavalieri, Luca porti il tuo sedio, Bernati porti la tua sedia, no? Allora Luca. Quindi dove ero rimasto? E quindi ovviamente è una tavolozza e c'è un po' di tutto, ovviamente, per darvi un'idea, ma la ve la do perché è fresca, freschissima, ieri è la giornata mondiale dell'autismo, tutti voi avrete visto il Presidente della Repubblica presente a Pizza Out, ecco, i ragazzi di Pizza Out sono ragazzi che hanno un potenziale decisamente alto, perché sono ragazzi che possono venire al tavolo, ci puoi interagire verbalmente, prendono la comanda e portano le pizze, eccetera. Questo è un aspetto dell'autismo e devo dire la verità è proprio una, purtroppo, è una minima parte dell'autismo perché il grosso, ahimè, sono non verbali come il mio Tommy e in alcuni casi gravi gravissimi vuol dire che stanno tutto il giorno magari seduti su una sedia a guardare il soffitto o ad avere gesti ripetitivi in alcuni casi anche autolesionistici e quindi, insomma, capite che c'è un po' di tutto in tutto questo. Io sono molto contento dell'esperienza di Pizza Out perché comunque è un modo per portare alla luce il problema dell'autismo. Lui ha trovato un canale, secondo me è un canale importante perché anche questi ragazzi ad alto potenziale hanno comunque una possibilità di accreditarsi nella società e quindi la possibilità di lavorare, la possibilità di prendere uno stipendio e quant'altro. L'unico appunto che faccio è che non vorremmo almeno lo faccio a nome di un po' tutte le associazioni tra cui anche la mia ma che lavorano tutti i giorni sul territorio immagino anche qua in Piemonte che sono centri di uni che sono associazioni di volontariato che sono genitori che si mettono insieme dove invece fanno tanta tanta fatica tanta fatica perché non è facile gestire questi ragazzi e non è facile gestire un'associazione che spesso e volentieri sono associazioni private e che devono raccogliere fondi e per cui noi facciamo i nostri bei banchetti dove vendiamo i lavoretti dei nostri ragazzi dove i nostri ragazzi fanno i lavoretti ma non solo fanno magari attività cittadine non so pulire il parco piuttosto eccetera eccetera a fronte di contributi a fronte di tutto può servire come del resto anche questo libro nel senso che ovviamente è ricavato tolti i costi dell'editore che vuole la sua parte ma tutto va all'associazione che guarda caso si chiama gli sgusciati guarda caso quanti sono gli iscritti apro solo una breve parentesi quanti sono i partecipanti all'associazione al centro al nostro noi gestiamo più o meno è un centro diurno privato come dicevo poc'anzi e gestiamo tra ragazzi adulti e bambini piccoli più o meno 15-17 famiglie che vuol dire avere necessità di persone che si dedicano a queste noi abbiamo 6-7 educatori di cui due assunti in modo diretto e altri invece sono psicologhe che lavorano con partita IVA e che dalle mattine alle 9 stanno in associazione è un centro diurno fino alle 16-16 per cui i 7 educatori sono proprio l'indispensabile il minimo perché ce ne vorrebbero probabilmente anche di più considerando di solito ci vuole un rapporto 1-1 adesso si è passato a un rapporto 1-2 ma per necessità perché non tutte le associazioni possono permettersi rapporto 1-1 vuol dire un ragazzo un educatore un ragazzo noi quindi avremmo dovuto avere 15 educatori assolutamente una spesa insostenibile lo è già adesso facciamo mille sacrifici e poi noi famiglie ovviamente partecipiamo perché ogni ragazzo che partecipa e frequenta il nostro centro ovviamente paga una retta compreso il mio e quindi vi viene da chiedere visto che abbiamo l'assessore alla famiglia se c'è uno stanziamento delle regioni o statali per queste situazioni c'è? grazie beh innanzitutto grazie dell'invito no allora facciamo vedere se si apre ecco perfetto no allora in generale noi centri diurni li sosteniamo a livello ovviamente di risorse tendenzialmente sono 180 in tutta la regione Piemonte devo dire che però io ho una visione per autistici no sono generici in generale in generale ovviamente faccio un discorso generale sulla disabilità però proprio perché si tratta di una fattispecie particolare credo che a maggior ragione noi dobbiamo puntare alle abilità perché è questo che deve essere veramente il cambio di paradigma e il cambio di modello quindi non possiamo pensare che l'intervento debba necessariamente risolversi iniziare e finire nella frequentazione di un centro diurno perché questo è davvero molto limitante e io devo dire è arrivato il momento di pensare molto più in là di buttare il cuore oltre l'ostacolo come dico sempre per cercare di creare quegli interventi integrati che sto mettendo in campo non più tanto nell'ambito della disabilità ma in altri settori e so che la ministra Locatelli è molto diciamo così condivide questa visione cioè la valorizzazione dell'abilità del talento anche nell'ambito della disabilità cioè dobbiamo cambiare la modalità di approccio al problema cioè c'è un problema non guardiamolo sotto l'aspetto diciamo delle mancanze ma sotto l'aspetto del valorizzare ciò che abbiamo quindi questi ragazzi avranno dei talenti iniziamo a lavorare da quei talenti attraverso un modello di intervento ripeto integrato cioè andando a partire da un progetto individuale che abbia come obiettivo finale l'autonomia del soggetto un'autonomia lavorativa un'autonomia relazionale sociale perché questo è importante soprattutto a fronte del fatto che si parla sempre di famiglie fragili probabilmente le famiglie in questi contesti sono molto meno fragili di quanto noi non ci rendiamo conto sono famiglie forti sono famiglie che debbono mettere in campo risorse a volte che nemmeno loro conoscono e che fondamentalmente poi si trovano costrette appunto in qualche modo reinventarsi per andare a colmare dei vuoti che ancora esistono perché evidentemente gli interventi sono anche ancora frammentari per cui sul Piemonte è già stato fatto molto innanzitutto le faccio i complimenti per il libro so che il professor Keller è una figura come lei conoscerà assolutamente di altissimo profilo dirige il centro regionale per l'autismo e devo dire che di passi avanti grazie anche al suo preziosissimo contributo ne sono stati fatti in regione ma non è mai sufficiente non è mai sufficiente perché ancora le famiglie si sentono spesse sole e si sentono spesse ai margini di una società che deve cambiare mentalità cioè la disabilità deve essere un elemento che include più che disgrega e oggi non è ancora purtroppo così ripeto sia per l'autismo minorile sia per quello adulto tante cose si sono fatte penso che l'obiettivo centrale sia quello di arrivare a una diagnosi il più precoce possibile in effetti con lo screening a livello pediatrico ciò è stato fatto in Piemonte ma oggi dobbiamo puntare a far sì che ogni ASL ogni ASL tutte le ASL del Piemonte abbiano un nucleo multidisciplinare operativo che si coordini e interfacci con il centro regionale per dare risposte sempre migliori e sempre più appropriate e poi posti letto attivazione di posti letto io credo questo è un passaggio che dobbiamo ancora fare per i disfunzionamenti acuti a livello comportamentale che spesso ci sono e non trovano però immediata risposta disabilità che include tutto sommato come vi ho detto prima questo volume dovrebbe essere distribuito nelle scuole perché in questo modo si apre la conoscenza verso questo problema che non è è un problema anche se tu hai detto oggi si conosce molto di più in realtà non è un problema molto conosciuto non è un problema ma non lo conoscono come ho detto in apertura nemmeno tanto i politici perché in effetti parlare di aiuto alle famiglie io non uso pensare tutto il giorno 24 ore al giorno questo problema ce l'hai anche se poni il ragazzo in un centro dove ti aiutano però è una cosa che non ti abbandona mai soprattutto qua ci sono dei riferimenti il dopo il dopo sentivo lo definirei un tuo collega anche se nulla a che fare col giornalismo ma ha un problema a un figlio una figlia di questo tema e un giorno mi disse una frase terribile io non consentirò che mia figlia quando io non ci sarò più venga chiusa in una camera bloccata lì quasi prigioniera una frase che ho sentito dire anche da un tuo amico in televisione la stessa frase che mi ha gelata cosa vuol dire non lo consentirò cosa vuol dire questo è l'angoscio di tutti noi genitori cioè il dopo di noi è quello che soprattutto man mano che passano gli anni e passano ahimè e ti rendi conto che il tempo che ti rimane a disposizione è sempre meno cerchi di accelerare in tutte quelle che sono le attività che fai cerchi di hai un video però è specifico si vede che mi mi piace a che fare con i video e le televisioni si è bloccato mi blocco se è una foto mi blocco e stavo dicendo è chiaro che è un'angoscia perenne che poi è un'angoscia è un pensiero è un pensiero che hai costantemente e ci sono genitori che in qualche maniera sono un po' più passivi ci sono genitori come nel caso della nostra famiglia che quando Tommy aveva 11 anni ha detto beh non aspettiamo che ne abbia 35 per porci il problema e abbiamo dato vita a questa associazione proprio con l'ottica di muoverci per tempo e per trovare poi le soluzioni quando diventerà adulto adulto per cui quindi arriverà quel momento lo auguro per cui trovare già una situazione che possa in qualche maniera ecco per non trovarci in quella situazione che dicevi tu cioè di non di non pensare che il tuo figlio venga rinchiuso in un ambito che non è il suo che non riconosce e magari in quattro mura e invece in un ambito dove è cresciuto e dove comunque conosce le persone che tu hai avviato nel corso degli anni questo ti rende sicuramente più sereno io tornerai sul libro vi leggo le sette parole e mezza guscio superpoteri scuola festa felicità sfide domani e se mi soffermerei su felicità che lo trovo bellissimo perché tu racconti degli episodi come andare al mare raccontare al mare un ragazzo autistico non è una cosa così semplice vado in montagna oggi ho telefonato a una persona che ha un figlio autistico era in montagna mi fa se riesco vengo a vederlo un figlio autistico che oggi ha sui 28 anni un ragazzone bellissimo esteticamente però chiaramente quando stabilisce di andare in montagna arriva sulla punta del monte bianco esattamente con il problema che avevi tu del mare descrivi tu il mare sì nel senso che l'episodio del mare la nostra famiglia l'ha vissuta sia in senso positivo che in senso negativo adesso poi lo accenno nel libro non leggete più il libro eh sì sennò vi dico tutto a questo punto il concetto del mare sì fa un po' sorridere però Tommy quando entra in acqua ha bisogno di soprattutto quando era un po' più piccolo adesso un po' meno ma un cordone di sicurezza perenne intorno perché Tommy se entra in acqua siccome l'ambiente acqua è un ambiente che lo fa star bene un po' tutti i ragazzi autistici i bambini autistici in acqua stanno benissimo ma è molto semplice e stanno soprattutto bene in apnea per il discorso del guscio cioè sotto sott'acqua tutto si attutisce i rumori non ci sono e quindi loro se potessero stare sott'acqua per due ore lo farebbero evidente quindi e quindi noi quando andiamo in acqua c'è appunto questo cordone di sicurezza che neanche Vasco Rossi ha e che gli sta intorno ma non per altro perché Tommy nuota benissimo meglio di me sicuramente perché se Tommy comincia a prendere il largo va ma lui va esattamente non è che va cioè proprio va e diventa un problema per chi lo vede andare e sai benissimo che non quindi non io ho risolto sta cosa con gli anni perché alla fine aguzzi un po' l'ingegno quindi io entro mia figlia quando stava con noi si vergognava a morte io entro col salvagente col Tommy col ciambellone perché quello comunque è un modo per dargli un punto di riferimento e quindi quando lo vedo partire lo richiamo salvagente e lui arriva e si attacca al salvagente sono piccoli trucchetti ma la stessa cosa in montagna infatti sono ragazzi che loro camminano camminano e quindi verso l'alto sempre verso l'alto sempre io ho visto un documentario dove lo scrivo anche nel libro dove vedevo ho visto questo ragazzo che è andato sull'Himalaya e intervistando l'educatore che lo accompagnava in questo meraviglioso questa meravigliosa esperienza raccontava proprio di questo cioè sono ragazzi che non sentono la fatica e ovviamente non esatto bravissimo Luca che non vuol dire che non fanno fatica ma non lo esprimono cioè lo rendo ancora lo rendo ancora più semplice Tommaso settimana scorsa ha avuto l'influenza ma Tommaso non ti dice ho l'influenza lo dobbiamo intuire noi che ha l'influenza lo capisce perché è un atteggiamento strano e quindi mi dice bah bisognamogli la febbre lo vedo un po' strano ma è evidente che non te lo dice se gli dice che dove ti fa male lui lo dice da quando aveva tre anni l'orecchio e ti segna l'orecchio e non è l'orecchio è il suo modo per farti capire che c'è qualcosa che non va per cui se lo porti in montagna lui va sull'Himalaya e probabilmente muore di infarto ma lui non si rende conto di questo perché non ha la concezione della fatica ma come dice Luca giustamente non vuol dire che non la faccia questo è un po' il ragionamento Luca cosa ne dice di questo volume? due battute ma allora ci sono due o tre cose che vorrei dire sul volume mi fermo mi fermo a un aspetto molto molto banale io sono un collega di Mimmo e devo dire che nonostante si trascorrano tante ore insieme in onda in video ma anche fuori onda il rapporto è sempre stato di carattere strettamente professionale quindi ovviamente anche nella professione si scherza si parla dei problemi quotidiani ma non si entra troppo nel dettaglio e questa storia di Mimmo mi ha fatto capire che non solo con lui ma in generale è un'attenzione che raramente abbiamo nei confronti dei nostri colleghi giustamente si dice il lavoro è il lavoro e poi c'è la vita allora cosa mi è successo che leggendo questo libro io sono diventato più amico di Tommy che di Mimmo e lo svelo oggi no davvero cioè oggi io sono qui sono insieme a Mimmo in qualche modo componiamo anche una coppia discretamente affiatata involontariamente affiatata però io sono qui sono fiero di avere un collega come Mimmo sono orgoglioso del messaggio che si è preso carico di portare avanti ma sono qui e sono amico di Tommy cioè dopo aver letto il libro io sono di Mimmo non sono ancora amico e allora da domani non ci credo è vero è molto vero guarda io credo che Mimmo magari mi smentirà ma credo che invece mi darà ragione e quando ho letto l'ultima pagina ho proprio pensato questa cosa qui ho pensato io oggi sono più amico di Tommy che di Mimmo devo dire che c'è anche un background che ha fatto sì che vivessi o pensassi questa cosa nello specifico perché a me è capitato in passato di vivere da sostegno in dieci mesi in una struttura di disabili residenziale quindi tra l'altro ero residenziale anch'io nel senso che io vivevo lì facevo le notti eccetera vivevo in questa struttura perché l'ho fatto in qualità di obiettore di coscienza e quindi non avevamo noi dovevamo stare lì tranne il giorno libero e quindi devo dire che l'adesione anche con con il modo di vivere e di comportarsi di agire che racconta Mimmo di Tommy mi ha fatto mi ha portato abbastanza facilmente vicino a Tommy poi magari in futuro sarò anche vicino a Mimmo però gli sono gli sono vicino a livello spirituale ma non siamo ancora veri amici magari non lo saremo mai ma conto Luca di dove sei io sono di Rivoli qua ecco piemontese io sono una piemontese pure stanco pertanto lo posso dire noi ci conosciamo 30 anni dopo 30 anni che ci frequentiamo voi mi chiedete siete amici ci conosciamo il guaio che lo faccio anch'io perciò non posso dirti nulla anch'io ma Mimmo l'ha capito ecco sì ma non potrà mai solo noi piemontesi siamo così ma no ma nel caso di Luca Fausto c'è un problema che non ci non farà non succederà mai questa cosa e diventeremo amici perché essendo Mangia Gianduiotto io non cioè Juventino per me è una roba che non ce la posso fare non ce la puoi fare sono contento delle belle parole che ha detto su Tommy e mi fermo lì a me che diventiamo amici anzi meglio meglio mi creerebbe imbarazzo con i parenti in questo libro però ci sono molti riferimenti al pallone in un boda o nell'altro per forza per forza di cose scuola la scuola la scuola è un bel capitolo la scuola è un problema qua ci sono due assessori e per questo che ti faccio questa domanda io lei però è l'assessore della famiglia lui informatica è un altro mondo però è chiaro che questa è la mia esperienza quindi non posso assolutamente generalizzare anche se potrei perché comunque abbiamo a che fare con talmente tante persone che girano intorno a noi nel mondo dell'autismo quindi un po' di di scorza ce la siamo fatta per noi è stata un'esperienza assolutamente negativa ma negativa nel senso che la scuola per noi scuola vuol dire l'aula di sostegno questa è quella che che ha condizionato tutto il percorso schelastico di Tommaso fino ai 18 anni 19 anni nelle quattro mura dell'aula di sostegno dove il più delle volte anzi sempre l'insegnante di sostegno chiedeva a noi che cosa doveva fare col ragazzo e quindi noi dovevamo diventare il sostegno all'insegnante di sostegno e questo è un aspetto in alcuni casi pagavamo noi una persona terza che andava a fare il sostegno all'insegnante di sostegno quindi finché sei una famiglia che se lo può permettere va bene ci sono casi dove ci sono estreme difficoltà economiche e neanche questo puoi fare e mio figlio frequentava solo due o tre ore perché comunque la scuola non era in grado di dare una cosiddetta copertura dell'intero orario scolastico per cui c'era la telefonata signora può venire a prendere il suo figlio e mia moglie andava a prendere infatti mia moglie da quando Tommy ha più o meno cinque anni ha dovuto lasciare il lavoro per dedicarsi completamente al ragazzo per cui insomma sulla scuola si potrebbe veramente parlare per ore e questo questo è un problema io sono una giornalista ma nasco come insegnante ho una laurea in lingua e le mie prime supplenze stiamo parlando degli anni 70 inizio anni 80 le mie prime supplenze avevo mi ricordo una ragazzina disabile in classe oggi mi hai detto li chiudono in una stanza all'epoca li mettevano nel mio caso nella mia classe io insegnavo inglese e questa ragazzina non poteva fare niente abbandonata a se stessa io ancora me la ricordo a distanza di anni ancora mi ricordo che appena avevo un margine di spazio di tempo mi avvicinavo a questa bimba bimba ragazzina di 12 anni 13 anni che non so se mi capisce ma mi è sempre rimasto impresso che non si poteva fare niente all'epoca e vedo che non è cambiato molto questa cosa la posso dire nel libro io mi sono accorto e ho preso coscienza che mio figlio era autistico proprio dalla scuola nel senso che un giorno passando in auto i bambini erano tutti all'esterno del giardino sto parlando degli elementari erano nel giardino a fare la pausa all'intervallo e quindi era il primavera e quindi tutti fuori a giocare e poi c'era questo bambino seduto in questo prato molto ampio che giocherellava con una foglia che faceva tutto il tempo così e quello era mio figlio e io casualmente sono passato in auto ho guardato ho rallentato ecco quello è stato il momento dove ho preso consapevolezza del fatto per citare un film Houston abbiamo un problema perché ho capito che da quel momento la mia vita sarebbe stata un'altra vita Tommy aveva 6 anni 5-6 anni e Tommy era da solo assolutamente da solo in quel momento e di fatto questa solitudine se l'è portata dietro fino ai 26 anni Tommy non ha un amico come la maggior parte dei ragazzi autistici sono assolutamente ragazzi soli sto parlando dei casi ovviamente importanti non i casi di pizzato non i casi di pizzato sto parlando di casi importanti quindi non ha amici ha fatto 26 anni i compleanni completamente da solo se non con la famiglia ovviamente ma parlo di coetane e quant'altro non è stato mai invitato a un compleanno di un qualche suo compagnuccio di scuola mai e perché torniamo a quello che diceva all'inizio Carola perché probabilmente si conosce poco perché a volte veramente se si conoscesse la conoscenza è importante perché come dico appunto scusate intanto cito il libro ma giusto per dare un riferimento il fatto di conoscere ti permetterebbe anche di invitare Tommaso a un compleanno perché se sai che Tommaso è amante e guarda 365 giorni all'anno un DVD della Disney perché così è ancora oggi probabilmente può invitare Tommi e fargli trovare un angolino col suo bel DVD del Re Leone lui se lo guarda e Tommi però è lì è incluso che si usa tanto questa parola ultimamente è incluso in quel momento anche se non sembra ma lui sa di essere in un contesto diverso e lo si capisce per chi lo conosce che è contento di essere lì però non succede è il capitolo dedicato alla festa trovate il capitolo dedicato tra l'altro Rita Levi Montalcini di cui io penso di essere abbastanza esperta avendo scritto una biografia lei diceva che la scuola andava assolutamente cambiata e lo diceva 30-40 anni fa in effetti diceva modificando la scuola a parte che si aiutano gli allievi i bambini ad imparare ma si parlava lei non usava il termine inclusione che si usa tanto oggi ma quello era il significato e per questo che questo libro andrebbe letto nelle scuole almeno nelle scuole medie è scritto in modo così semplice che è un vero peccato che qui non ci siano molti insegnanti perché di lettere magari eccetera perché è scritto in un modo così leggero che anche leggendolo un ragazzino di terza media è come una favola l'hai scritto complimenti è scritto come una favola il capitolo dedicato alle feste è delizioso perché parla di quello che dici tu tra l'altro meglio di come l'hai detto è scritto veramente molto molto bene io non lo so ma le sfide mi incuriosisce molto ancora c'è un capitolo dedicato alle sfide le sfide sono le sfide quotidiane le sfide di tutti i giorni per portare i nostri ragazzi ad un'autonomia che gli permetta di essere i più inclusi possibili noi in Lombardia assessore abbiamo avuto un nostro riferimento che era il professore Lucio Moderato che era un po' il punto di riferimento dell'autismo per Milano e provincia sicuramente era responsabile del centro autistico della Sacra Famiglia quando dico questa cosa uno dice la Sacra Famiglia e dove è andato Berlusconi per quando è stato per i lavori socialmente utili esattamente e purtroppo adesso è venuto a mancare col covid e giustamente com'è non Berlusconi no 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 ho detto mica non scherziamo su queste cose no 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 Lucio purtroppo è venuto meno e però una cosa che ci diceva dice beh tutto bello tutto fantastico ma sto ragazzo è capace a lavarsi i denti da solo riesce ad andare in bagno scusate e ad avere un'autonomia nei suoi momenti appunto in bagno riesce a mettersi i calzini cioè queste sono le domande cruciali il resto perché se non partiamo da queste autonomie ma anche nell'ottica del dopo di noi perché ci sarà avrà sempre bisogno di qualcuno che gli metta i calzini che gli dia da mangiare eccetera eccetera quindi lui puntava molto su questo punto e infatti ti ho chiesto delle sfide perché su questo vorrei l'assessore caucino sfide per la regione per un assessorato come il tuo della famiglia della disabilità le ho anticipato diciamo che insomma mi sorgevano tutta una serie di riflessioni tristi piacevoli quello che in realtà la sfida è quella di non lasciare mai nessuno solo al di là del fatto che si tratti di un bambino di un ragazzino sentendo Mimmo bravissima qualche perplessità la realtà è diversa ma posso fare un aneddoto proprio anche personale visto che parliamo di personale mio figlio alla scuola materna aveva ricevuto un invito da un compagno di scuola cinese siamo gli unici ad aver partecipato a quel compleanno quindi non c'è bisogno di andare tanto in là ma infatti nel libro Mimmo fa anche riferimento a questo potrebbe essere trasversale rispetto a tantissimi altri temi no e oggi stiamo parlando di autismo evidentemente stiamo parlando di un problema più ampio però quando la cosa non è conosciuta c'è un senso di paura o di indifferenza o di ignoranza si subisce poi la solitudine a seguito di questa società che non è in grado di accogliere di includere di vedere l'altro come una possibilità anche di valutare un mondo diverso dal nostro questa è la grossa difficoltà quello di aprirsi aprirsi all'altro quindi bisognerebbe davvero modificare culturalmente la visione dell'altro perché oggi è il ragazzino autistico domani è il cinese e dopo domani è il bambino che non è seguito dai genitori e si veste in modo anomalo e che magari viene bullizzato quindi bisogna intervenire sulla scuola ed è come dici tu carola sono 40 anni che la scuola è ferma lì ed è ferma lì perché evidentemente non c'è un input non solo non devo dire a livello regionale ma io credo soprattutto a livello nazionale che modifichi certi assetti oggi la scuola è vecchia di 40 anni quando i nostri ragazzini sono avanti di 30 anni perché hanno una velocità di pensiero di ragionamento che diciamo è veramente scollata col sistema scolastico odierno dopodiché ci sono situazioni in cui dovremmo accompagnare il bambino il ragazzino precocemente dovremmo individuare la problematica io mi chiedo e voglio chiederle ma suo figlio queste abilità c'è stato qualcuno che le ha in qualche modo accompagnate ha cercato di implementarle perché l'autonomia non si realizza in due giorni l'autonomia va coltivata l'autonomia è certo però non credo che questo sia avvenuto l'autonomia va coltivata ha detto bene va va anche in qualche maniera accompagnata e chi può farlo se non i genitori chi non può farlo se non gli addetti ai lavori cioè gli educatori quindi noi abbiamo lavorato in concerto di concerto con gli educatori e abbiamo insegnato Tommy a mettersi le calze questa è la verità perché lui non era in grado di farlo né tantomeno era in grado di espritare le sue funzioni primarie io devo essere lì invece adesso piano piano ha imparato con gli anni ma è un lavoro lungo 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 non è facile per cui soprattutto in ambiti particolari e soprattutto in ambiti esterni per cui Tommy al ristorante ha imparato con gli anni ma ha imparato perché ovviamente l'abbiamo seguito l'abbiamo educato tra virgolette che non è che poteva alzarsi e farsi il giro di tutto il ristorante come voleva lui spesso i bambini fanno questo crescendo ovviamente è maturato anche lui sotto questo aspetto però lo fanno anche gli adulti se è per questo noi abbiamo nella nostra struttura due barra tre ragazzi che in questo momento se fossero qua adesso i ragazzi di 27 28 anni probabilmente adesso sarebbero qua che gironzano a mettere le mani in testa a tutti quei presenti quindi è talmente soggettivo ogni individuo è un autistico è un mondo particolare è un mondo a sé quindi si fa un po' fatica a generalizzare ecco quello che è un po' infatti io lo dico sempre questo è il mio libro non è il libro dell'autismo è la mia esperienza perché non ho questa arroganza di pensare che di conseguenza a te oltre la scuola mi fa una domanda ah scusa ho capito faceva dei segni mi distrae dopo vi passo la parola faccio solo una domanda ecco di conseguenza oltre la scuola che dovrebbe essere un po' più inclusiva eccetera e tutto quello che ci siamo detti le regioni perché purtroppo la sanità è divisa cosa che insomma è così una regione la tua regione la regione Piemonte le altre regioni che cosa dovrebbero fare per venire incontro alle famiglie perché la persona autistica è la persona autistica ma a quel punto anche i familiari anche tutta la famiglia diventa dal mio punto di vista quasi un prigioniere beh devo dire che la regione Lombardia io parlo del mio caso ha lavorato bene sotto questo punto di vista quindi sta lavorando bene ci sono c'è la 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 insomma ci sono una serie adesso non puoi entrare nel tecnicismo perché ovviamente non è per tutti ci sono dei fondi di accompagnamento per le singole famiglie e quindi c'è un lavoro oggettivamente che è innegabile un po' meno sulle sulle strutture magari sulla famiglia stanno facendo un lavoro egregio sulle strutture intendo sulle associazioni un filino meno perché noi facciamo fatica lo abbiamo già messo sui tavoli perché andiamo non esagero quotidianamente comunque andiamo in regione spesso quindi abbiamo dei tavoli aperti nei quali ragioniamo però le associazioni fanno veramente fatica e purtroppo c'è bisogno delle associazioni senza associazioni noi tutti prenderemo i nostri figli e li porteremo dritti dritti nei centri diurni comunali e quant'altro che vuol dire che il comune poi deve pagare perché è evidente perché se lo porto lì il centro è un centro diurno accreditato a me converrebbe parliamoci chiaro io non lo ne mio figlio paga ogni mese mediamente alla nostra associazione come famiglia tra gli 700 e 900 euro al mese questo è il costo di Tommaso per la nostra famiglia quindi se volessi essere proprio banale banale l'ho porto in un centro diurno accreditato io ne tiro fuori 300 se va bene perché il resto ce lo mette in comune ecco quello che su quale stiamo lavorando almeno in Lombardia è far capire l'importanza di queste associazioni del lavoro che fanno e quindi un riconoscimento ci deve essere in qualche maniera per la nostra famiglia